La strada è segnata, il risultato a portata di mano. La strategia di sostegno e accompagnamento alla crescita e allo sviluppo dell'università diventa molto di più di un semplice auspicio. Ieri, nell'aula consigliare di Palazzo di Città, il rettore Pierpaolo Limone aveva invocato tempi rapidi per la chiusura di un percorso che permettesse agli studenti di avere più spazi, anche come adeguata risposta alla crescita delle immatricolazioni e all'allargamento dell'offerta formativa. La Regione ha detto sì e ha confermato la volontà di sostenere economicamente l'operazione di acquisto dell'ex caserma Miale, che sarebbe dunque acquisita al patrimonio dell'Ateneo. 5 i milioni di euro che l'assessore regionale al bilancio Raffaele Piemontese ha messo sul tavolo con la ristrutturazione dell'immobile che dovrebbe avvenire con l'aiuto di fondi ministeriali. Sul prezzo della struttura la trattativa è ancora in corso, la PNP Paribas proprietaria dell'ex caserma era partita da oltre 16 milioni di euro, ma è molto verosimile che alla fine sarà possibile chiudere ad una cifra più bassa, almeno la metà di quella iniziale. Una specie di paradosso tuttavia, perché l'ex caserma Miale fu ceduta al privato all'interno del processo di cartolarizzazione attivato dall'allora ministro dell'economia Giulio Tremonti ad un prezzo di circa 11 milioni di euro, per essere successivamente affittata dagli acquirenti al pubblico, cioè al ministero dell'interno, ad oltre un milione di euro l'anno e tornare adesso, a chiusura del cerchio, nuovamente pubblica, con finalità pubbliche e fondi pubblici da versare ovviamente nelle casse del privato. Come che sia, dai 13 mila metri quadrati dell'ex caserma, l'Ateneo punta a ricavare circa 15 aule e servizi per studenti. L'idea inoltre è quella di realizzare anche un trasferimento del rettorato, destinando l'attuale sede di Via Gramsci alla residenzialità, dunque ad alloggi universitari. Un progetto che metterebbe a sistema, anche dal punto di vista della collocazione, il Dipartimento di Giurisprudenza, l'ex caserma Miale ed il Dipartimento di Economia. Il rettore Limone, infatti, parla di un momento storico e di un grandissimo segnale di disponibilità e attenzione che merita ampia gratitudine nei confronti del governatore Emiliano e dell'assessore piemontese. Sembra invece definitivamente tramontata l'ipotesi del campus universitario all'interno della fiera di Foggia. Una prospettiva a lungo caldeggiata, ma che pare abbia incontrato più di un ostacolo, anche a giudicare dalle parole del commissario straordinario del comune di Foggia, Marilisa Magno, che ieri ai cronisti ha spiegato, in modo esplicito, di non esserne a conoscenza.